Ma in realtà questo libro è nato un po' da una considerazione molto banale, molto semplice e cioè che c'è un momento della nostra vita in cui ci insegnano l'alfabeto, ci consegnano quando siamo bambini l'alfabeto e però con quelle lettere, che sono poi soltanto 21 lettere più quelle speciali, poi nella vita noi dobbiamo fare tutto. Con quelle parole dovremmo crescere, arrabbiarci, avere i primi fidanzati, lasciare le fidanzate fare l'università, sposarci, lasciarci, litigare, accarezzare, insomma con l'alfabeto noi dobbiamo fare tutto. Allora quello che ho provato a fare è proviamo a prendere una vita ipotetica, la mia, 38 anni proviamo a scrivere 38 racconti in ordine alfabetico e proviamo davvero a fare questo esperimento in 38 racconti di far stare tutta una vita, dalla nascita fino alla morte. Beh, è bello l'idea che una città possa essere connotata per un libro. Oggi le città tendono a essere città per altri tipi di prodotti, no? Invece il fatto che ci sia questa cosa così antica, che nello stesso tempo, che richiede è una specie di strano elastico tra una persona che sta sola davanti a un libro e che quindi si immerge profondamente in una cosa e invece un oggetto che è contemporaneamente sociale, cioè il libro è qualcosa che si legge in solitudine e che però si legge in tanti. Allora l'idea che ci possa essere un festival, un cosiddetto festival, in cui le persone sono contemporaneamente tante ma sono anche sole, diciamo mi sembra il modo migliore per pensare che un festival non sia soltanto qualcosa in cui tutte le persone si muovono in massa per rispondere alla chiamata di qualche pubblicità. Dunque il Polo Culturale a Cagli è un percorso che ha un inizio lontano e un sogno se vogliamo condiviso da più generazioni di amministratori e parte nel 1997 con l'acquisto di questo palazzo da parte della provincia di Pesorurbino e poi ha un cammino e attraverso una serie di finanziamenti statali, regionali, nonché l'ultimo, quello per l'assetto così come noi oggi lo vediamo, di cui è stato beneficiario il Comune di Cagli, che è un finanziamento di Arcus, l'Agenzia del Ministro del Bene Culturale. Il Polo Culturale volutamente quindi ospita questo primo passaggio, quello di questa sera con Alessio Torino e Raffaeli, per la presentazione un libro che è quello di Baiani, uno dei grandi scrittori d'Italia, giovani grandi scrittori italiani. Anche perché con naturale è questo legame con il parco letterario Volponi. Volponi peraltro in quel celebre romanzo ricorda queste colline vellutate, che è il paesaggio di Cagli guardandolo attraverso il torrente, al di sopra il torrente della Screbbia. E quindi è inevitabile questa appartenenza, questo essere dentro un processo importante che il parco letterario sta assolutamente sviluppando. Cagli poi da sempre particolarmente vicina alla città di Urbino. Ricordo sempre che nel 1376 lo Stato di Urbino nasce per un accordo giurato con i Montefeltro, da un lato, e due città su piedi di parità dall'altra parte, quelle due città erano Urbino e Cagli. Quindi questa unione si può solo rinnovare attraverso un legame culturale importante. Perfetto.